Ciao ragazzi, io sono Cristina Mirkovic, la mia scuola online è metodomirkovic.com e questa sessione youtube è dedicata a tutte le mamme e papà che vorrebbero dare una mano nello studio di violino quotidiano a casa ai loro figli. Il perché di questa sessione youtube è perché sei giorni su sette quando il bambino dovrebbe in teoria studiare a casa per andare qua a lezione, settimo giorno della settimana, se il bambino ha 5, 6, 7, 8, 9, anche 10 anni e se si ritrova da solo davanti allo spartito e deve fare la conversione dal segno scritto al movimento della mano, dita, braccio e l'archetto anche del movimento della mano sinistra, se non lo sa esattamente, soprattutto se non è sicuro come lo si deve fare diventa un inferno, nessuno testimone e con tutta la maggior passione e amore verso lo strumento, senza questo saper come nella conversione tutto diventa molto più faticoso e soprattutto frustrante perché per arrivare ad un automatismo e la passione è l'entusiasmo totale verso il violino, ci vuole questo, saper come, che è il tassello indispensabile. Aiutiamo dunque, diamo una mano ai genitori per dare una mano ai bimbi nella conversione, andiamo dritti al dunque. Nelle precedenti lezioni, 13, 14, 15, questa è la sedicesima, importantissimo, ve lo dirò sempre, è sapere le note della scala in salita e in discesa, perché? Perché se il bambino sa contare le note della scala, saprà contare le dita, i nomi delle dita della mano sinistra sul tasto, sulle corde, importantissimo, perché se questi mancano, vedere una nota dello spartito e convertire una dita sarà sempre un problema, eliminiamo da subito. E dunque, se nella nota della scala, la nota della scala, adesso ci dedichiamo alla corda di re, perché nelle precedenti lezioni abbiamo parlato della corda di mi e della corda di la, dunque la corda di re, la nota della scala dopo la nota di re, do re, mi, mi, dito indice, primo dito, l'abbiamo già spiegato, che cade sullo scotch che abbiamo già messo, che corrisponde alla nota mi, quindi primo dito sulla corda di re, come si chiama, ha il suo nome, ed è mi, la caduta del dito è sempre sul polpastrello, e dunque, corda re, calchetto sempre, viaggia sullo scotch come treno sul binario, ci si ferma, si colpisce la corda con il dito indice, colpo al pastrello, cadendo sullo scotch, e arriviamo alla nota mi, ci si ferma, mai due movimenti per volta, un movimento per volta, alza dito, ci si alza, con il dito della corda, colpo al re, ci si ferma, primo dito, che è noto dopo re, il geni, e così via, il primo dito che cade sullo scotch, perché sullo scotch? Il scotch serve appunto per smaltire la difficoltà iniziale, perché è indispensabile l'uniformare il movimento, la caduta del dito, sempre sullo stesso posto per la stessa nota, finché appunto non ci si raggiunge all'automatismo, pensare sempre alla scala per sapere, a identificare, contando quale dito corrisponde a quale nota nello spartito, e muovendo l'archetto, fermandolo per colpire la corda, continuare a muovere l'archetto, fermandolo per poi alzare il dito dalla corda, si fa un movimento per volte per suonare il primo dito, guardando la nota in simultaneo, e suonando con le migliori musiche originali, visitate la mia scuola online metodomircovici.com, oppure fate subscription qui, nel mio canale youtube metodomircovici, oppure non esitate di farmi tutte le domande che credete importanti per incentivare il vostro studio, ossia il vostro aiuto che potreste dare al vostro bimbo a livello quotidiano a casa. Grazie!